ciao ragazzi allora dopo la vittoria contro il bayern per 2 a 0 arriva anche la seconda vittoria stavolta ai calci di rigore col benfica insomma devo dire comunque due vittorie non sono male ci permette di ancora rimanere matematica riguarda se la juventus avesse perso nei 90 minuti non avrebbe più potuto vincere l'icc col valore che può avere obiettivamente però comunque secondo me anche nei tornini estivi è meglio sempre rimanere con la possibilità di vincerli poi magari non li vinci però e non come non mi interessa vincerli però comunque rimanere rimanere in corsa secondo me fa bene anche a livello proprio di umore insomma no a livello a livello di stimoli beh che c'è da dire ragazzi io secondo me a me è piaciuta la juve a me è piaciuta mi è piaciuta devo essere sincero è una delle più belle juve da turni non lo so che cos'è se l'effetto ronaldo se boh non lo so però devo essere sincero io non vedevo una juve così brillante nelle turni da da tanto tanto tempo da tanto tanto tempo e anche oggi cioè oggettivamente oggi primo tempo noioso soporifero non blando proprio un primo tempo che doveva passare in fretta poi ci ha pensato nel secondo tempo l'avevo visto una bella juve che ha mangiato si è mangiata dei gol pazzeschi poteva tranquillamente chiudere in vantaggio già passare in vantaggio abbondantemente poi non l'ha fatto ha sbagliato molti molte palle gol finché alla fine poi il benfica ha sfruttato la sua con una bella una bella punizione ha fatto un gol pazzesco ragazzi ha messa proprio sotto sette sarebbe stato brutto perdere questa partita perché non meritavi ecco non peraltro poi c'è stata la traversa di Benatia altre occasioni cansello ha sbagliato un gol davanti al portiere che dirà pure insomma meritavamo questo gol che è arrivato poi con una gran giocata di luca clemenza che se dovesse essere confermata la notizia che clemenza giocherà in squadra b attenzione perché se non è clemenza potrà far molto molto bene anche in squadra b e che devo dirvi ragazzi alla fine è finita in parità nonostante c'è stato un gran miracolo del portiere benfica su un colpo di testa di alexandro ho visto una juve nettamente in crescita addirittura meglio che col bayern che a me col bayern non era assolutamente dispiaciuta e poi considerando che benfica settimana prossima al preliminare dicembre quindi è nettamente più avanti di preparazione belli belli zitti zitti quatti quatti siamo riusciti secondo me dominare la partita infatti questa è la cosa positiva che tu hai dominato la partita contro una squadra che è molto più avanti di te in condizione poi calci di rigore si sa che sono lotterie però ecco per in mi dava una sicurezza come pararigori che altri portieri non mi davano eh né scesni né buffon né che né non lo so io né neto né storari per il mi dà una sicurezza sui calci di rigore incredibile pure boh è una cosa psicologica mia sicuramente detto questo benfica ne sbagliati due noi portiamo a casa la vittoria 4 2 rigori 5 a 3 totale e andiamo a qua e andiamo a cinque punti vincendo nei 90 minuti contro la madri supereremo il eventualmente il borussia dormant e poi dovremo aspettare i risultati tutte le altre per fare dei calcoli ma attualmente comunque noi siamo ancora in corsa ma che ripeto non conta nulla l'icc però secondo me a livello di stimolo è importante stare sempre lì a provare a giocarci a prossima partita ci sarà juventus contro mls allstars è la più importante perché per le mls è una partita ufficiale tutti gli effetti lo star game viene annoverata come partita ufficiale quindi sicuramente spero che la juve non fallisca questa partita perché ci tengo particolarmente anche perché giocare con il Real Madrid può ricapitare con gli mls allstars insomma non è che puoi fare tantissime partite chiaro che non mi strappo le vesti se non si vince ed è chiaro anche che non vado a fare i caroselli se si vince però ecco diciamo mi farebbe piacere vedere una vittoria della juve mercoledì o martedì quando gioca poi i mls allstars ragazzi dunque juventus batte benfica 5 a 3 dopo i calci di rigore a me non resta che salutarvi dell'appuntamento con i prossimi video ciao